Buon pomeriggio sera da Marcus, ben ritrovati appena rientrato dal lavoro, veloce veloce per farvi vedere poi un'altra nuova previsione ma il 90 di Palermo ancora qualche colpo sempre con 50, il 51, il 57, il 58 ambata contata, stiamo parlando di ambata contata, allora vabbè qua c'è un ambetto e non ho guardato tutti gli scontrini perché non ho tempo ragazzi, comunque sono contento che avete preso l'ambata, poi avete vinto anche l'ambetto nei tre numeri, vabbè come l'avete giocato e vi discorrendo, allora il 77, il 79 come vi avevo ripetuto l'altro giorno andavano a finire a Bari di riflesso a Venezia e vedete che ambata contata non si smentisce mai primo colpo, 79 arriva a Venezia ma abbiamo visto le frequenze del 77, rimane ancora ottimo su Venezia mi avete chiesto di questo 77 a Venezia, se potete, chi vuole, lo può continuare non troppo non andate alle lunghe, ma il 77 è ancora forte su Venezia, fate ancora 22-27 se volete ma ve lo raccomando non vi uccidete, fate come volete, quella ambata è ancora forte su Venezia poi nulla, poi di rimbalzo ieri sera 77 di rimbalzo, veramente questo andava a finire proprio su Bari, infatti è stato così, 77 col 28, peccato che non c'è stato il 27 se non c'era un ambo secco, perché uno può fare anche il 77-22 e il 77-27, come vi ripeto sta girando nei primi 4 colpi, vedete che poi rimbalza, vi ricordate che comincia a andare, quindi di partenza, se parte subito con il 79, poi fa di nuovo qualche colpo e va a Bari, questo potrebbe darsi che si ripeta ancora e va a finire proprio su Venezia, quindi questo è il 77 e è uscito il 28, poi abbiamo visto che il 9, il 9 era uscito a Firenze, ambata contata, cosa succede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abbiamo come vi ripeto tutte le somme 90, ambata contata, insomma le frequenze, la Palermo come vi dicevo è la migliore, comunque 1, 2 colpi per ambata contata e vedere se sto 90 adesso, se sto 9 si giri 90 su Palermo, come vi ripeto si può giocare con 2 euro, 1 di ambo, 50 centesimi di terno, 50 centesimi di quaterno e metteci anche 10 centesimi di cinquina, 1 con 2, 3 euro può anche giocare alla stessa previsione, non è che si deve uccidere a fare 8000 euro di ambo, 8000 euro di terno, perché ragazzi dai, diciamocelo chiaro, non si può ragionare così nel gioco dell'otto, non ce n'è certezze, ci sono solo dei indirizzi che possono portare a una probabile previsione che possa portare il suo frutto, quindi 77 è arrivato, avete visto, ambata contata, ragazzi come vi ripeto non si smentisce mai, ha dato sia il 79 su Venezia, poi come vi avevo detto, e poi è andato fino in 77 a pari, adesso, se voi fate la conta di questo 77, va a finire Milano-Napoli, per dire no, per dire, e sarà sempre un girarsi così con i numeri, allora, come vi ripeto, adesso io, dopo il 90 che consiglio di giocare ancora su Palermo, ho una bellissima previsione su Milano-Napoli, con 73, 73, sono andato a vedere le frequenze, bellissimo 73 su Milano-Napoli, ed è già arrivato il loro 37, guardate, quindi quando arrivano su entrambe le ruote, guardate, vi faccio vedere, il 37, ecco, quando arriva, vedete, quando arriva su entrambe le ruote, allora poi vedrete che chiama il suo vertibile, poi vertibile è dato dalla presenza di Bari che noi, se andiamo a vedere con una batta contata, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 73 Milano-Napoli, 73 Milano-Napoli, che vedrete che arriverà su queste due ruote, quindi abbiamo una fortissima occasione che questo 73 si possa, quindi, instaurare su Milano-Napoli, con la quarantina, con la quarantina, ma in particolare c'è un Ambo secco, che adesso vi farò vedere tramite il foglio, che potrebbe verla meglio, ed è quell'Ambo che va d'accordo su tutte e due le ruote, sia per frequenza, ma sia anche come, quindi, come Ambo secco che Milano-Napoli hanno in entrambe la statistica, ecco cosa volevo dirvi, quindi 73-43 è l'Ambo base su Milano-Napoli, poi ci sono altri due abbinamenti, comunque adesso vi lascio il foglio, ma prima andiamo a vedere nel dettaglio, grazie a Roberto Borrelli, il suo meraviglioso programma, programmone, che ci fa vedere tutte le frequenze, quindi 73, poi ci sono anche altre somme 73 che arrivano su Milano e Napoli, quindi, vedete, questo è un concentrato, poi, grafico lineare, andiamo a vedere subito nella descrizione, Milano, a noi ci interessa Milano-Napoli, quindi, ah, poi nel foglio vi ho messo anche le posizioni, per i rifissati dell'ambatto, delle posizioni, ed è stato semplice, comunque, Milano, andiamo a vedere, facciamo una selezione, le 100 stazioni sempre di calcolo, ecco il Milano, guardate che il Milano, guardate che bellissima questa talena che ha fatto, comunque guardate, si sta rivelando veramente bellissimo questo programma, io ieri ho visionato insieme a Roberto qualche numero, se in particolare forse ho fatto vedere il 26 di Genova, che fra l'altro ha dato in particolare la posizione e la frequenza era pazzesca, poi ve lo faccio vedere, allora, questo è il 73 di Milano, vi ripeto, poi vediamo il 73 di Napoli, guardate qui, bellissimo anche lui, vedete come si infittisce, questo fittisce, questa cosa, come dico, che si infittisce, che si aggroviglia, non so come posso dire, stanno sortendo uno dietro l'altro così, si sta ingarbugliando, Robi galleggia, questo è bellissimo questo 73, vedrete che su Milano Napoli farà la sua comparsa con la quarantina, andiamo un attimino a Genova ieri, Genova 26, lui ormai è sortito, guardate qua, guardate qua, come si infittisce, che dico io, guardate come si aggrovigliano, perché la sortita è talmente veloce, talmente rapida, che questo 26 doveva sortire, se noi andiamo indietro di un'estrazione, guardate il 26 dove era, eccolo qua, dava una presenza, è pure uscito, perché si è incastrato, poi la posizione del, guardate che è scesa, se noi andiamo così, guardate dove la dava ieri a Genova, e infatti su Genova poi era uscito, e guardate qua, il 26, il 26 proprio in quarta posizione, e guardate infatti il 26 dove è uscito, proprio nella quarta posizione, comunque a noi adesso ci interessa il 73 di Milano Napoli, il 90 su Palermo si va avanti, e quindi essendo il quarto colpo domani, si va avanti, quel 9, tiriamo giù tutto, quel 9, quel 9 di Firenze, vi ripeto, può far far arrivare, o a Genova, Palermo, il 90, ma il 90, come vi ripeto ancora una volta, ha la frequenza maggiore su Palermo, che ha una soglia di uscita particolare, quindi dovrebbe dare, poi ieri è uscito il 50 e il 90, come vi avevo detto, che il 90 è accompagnato adesso dalla cinquantina, si fa viva con la cinquantina, adesso vedremo se a Palermo opererà, o col 51, o col 50, 51, 57, 58, e se uscirà con più di uno di quegli abbinamenti, alle, faremo festa, ecco la moto che passa, benissimo, ci porta fortuna, allora, credibile, allora, risumiamo tutto nella previsione in un foglio, ed eccola qui, allora, Milano-Napoli, Milano-Napoli, 73-43, primo ambo base, l'ambo base su entrambe le ruote, perché il 73 e il 43, e oltre che la frequenza, quindi, nel 43 sono di entrambe le ruote, quindi, 73-43, cadenza 3, bellissimo, ambo su Milano-Napoli, le frequenze ci sono tutte, e in particolare, poi, questi abbinamenti, anche, 46-47, attenzione, attenzione, perché questo 46-47, vanno d'accordo col 73, sia su Milano-Napoli, e diciamo che, queste hanno una frequenza un po' minore, rispetto al 43, ma sono sempre stati presenti, anche nella statistica, e questo 46-47 potrebbero andare ancora d'accordo col 73, quindi l'ambo base è 73-43, ma in aggiunta potete dargli anche il 46-47, o fare gli ambi secchi su tutte e due le ruote, oppure, vedete voi, potete fare anche una quartina, sia su Milano e Napoli, 73-43-46-47, ma l'ambo base, questo rimane, 73-43, le posizioni del 73 a Milano, la prima e la quarta, le posizioni del 73 a Napoli, seconda e quarta, questo è quanto vi sto dicendo, questo 73 Milano-Napoli, si fa la strada, veramente su queste ruote, il 37 ha già dato, su entrambe le ruote, adesso vedrete che il 73 con ambatta contata, arriverà come ha fatto con il 77 del Napoli e il 79 del Napoli, se non sbaglio, andiamo a vedere, si esatto, chiudiamo un attimo la luce, si sono fatti rivedere in entrambe le ruote, sia su Napoli, scusate, su Venezia e poi Bari, quindi eccolo qua, rimettiamo i numeri, incolorato, così almeno li potete vedere, questa ambatta contata, ragazzi, non ne perdona nemmeno una, ragazzi, allora, 77 che va a finire a Bari, 79 che va a finire a Bari, 1, ripetiamo, 79 a Venezia, 2, 3, ieri a Bari, adesso questo 73, vedremo il percorso che farà, ma, come vi stavo dicendo, 73, fate la conta, arrivate a 55, perché i numeri sono 55, quindi 55, quindi 73 supera il 55, senza fare tutto il giro dell'occa, fate il 55 così, subito al primo ordine, poi 60, 65, 70, 71, 72, 73, perfettamente su Milano e Napoli, i37 è già uscito, su entrambe le ruote, come vi dicevo, e vedete che questo 73 si farà vivo su Milano e Napoli, con la quarantina, Lambo Forte, 73, 43, noi ci risentiamo, grazie, mandate ancora gli scontri, non lo viste ancora tutti, poi magari faremo un video, sul 77 con Lambetto, va bene? Noi ci risentiamo, un abbraccio sempre dal vostro amico Marcos, grazie a tutti.